è in gamba di ossa il maestro si è inciampata e si voleva fare come il Kessler non so che è una cavalla forza su una partina mattina e mi pare parti per rendermi il ca io mi piattro cavallo un trastolo e si rocavallo per su una monta ma proprio insira via e va ecco passava da lì la dì guarda che bella famiglia su un povero cavallo raffan sfinì io dì papà, fu una brutta figura, papà, 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 papà vedo me ne andè, papà, papà, papà mica l'ucid la cavalla e mi ne vado un po' capè mica l'ucid la cavalla per i raggiunti per nemmi parli papà, 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 papà Per domaner di papà, papà, papà. Mi munto sì la cavola di una va di un buc capè. Mi munto sì la cavola parè e la gente che ne parli. Papà, 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 papà. Ehi! Cosenta la cavola come va maestro? Piace il violino? Ha compilato, eh? E' bravissimo. Una madame, vista la scena, ha la mortificame mi. Si giù che è grosso problema, mi sento dove andrò ma finì. E' il pane che è l'ansian, ha due un camminè. E' l'altro che ne fai niente, la cavola sta per te. E' il mio papà, 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 papà. Come a bretta fighe, eh? Papà, 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 papà. Papà, papà, papà. E' domani andè, papà, papà. E' uno che ci ha a cavolo, e' domani tutti e due a pe. E' uno che ci ha a cavolo a parlare, la gente più ne parli. Papà, 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 papà. Mamma, tutta stanza la banca, la viene ma sei cretino Lei pao che chi la se stanca che vai a fare i cammini d'Ausin O forse per riportarla a fare un bel giro al mercato Lei pao il tuo vino e l'andrì d'Ausin e nemmeno sta Io die papà, qualsiasi maniera, la gente prova sempre da dire Svatims ne pyralle paale, tytti kustisi Muntasila kavaala, rau, muntasema mi Papà, 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 papà Sì, sì 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 Nigh, nigh Sì, sì Sì, sì Nigh, nigh Sì 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 Grazie a tutti.